Due persone straniere, ma che vivono a Battipaglia, una 39enne ed un 33enne, sono state denunciate per maltrattamento di animali. È stata inoltrata informativa e direata la Procura della Repubblica di Salerno. I due sono a piede libero fino all'esito delle analisi tossicologiche sulle esche e sui gatti. La notizia è ufficiale, come ha confermato il comandante della Polizia Municipale di Battipaglia, Gerardo Iuliano. Un plauso alle associazioni animaliste, ai volontari e ai cittadini che hanno aiutato la Polizia Locale, a cui va il grande merito di aver fermato e denunciato le due persone che avrebbero confessato. In particolare si parla di riti propiziatori religiosi dietro l'uccisione degli animali. L'amministrazione e la Polizia Locale non hanno mai smesso di indagare su una vicenda che ci ha visto pienamente e attivamente coinvolti. Aspettiamo gli esiti dell'interrogatorio e le analisi tossicologiche, dichiara l'assessore Carolina Vicinanza. L'amministrazione e la Polizia Locale di Battipaglia